eccoci qua con un nuovo episodio del scontro tra titani oggi richiesta esaudita per il lettore di creepypasta e poi abbiamo già capito che mi dice di fare scontrare alieno acido contro predator con il plasma e di selezionare giustamente la giungla perché ovviamente film di alien o di predator poi c'è stato un mega scontro nella giungla soprattutto con predator e dato che alien l'abbiamo stuprato oseremo giocare con predator perché come sapete l'antico detto se troppo tanto usi l'alieno se ti trova ti inculano un baleno quindi prenderemo predator con questo costume e lo prendiamo allora lancio del plasma ma parlato di plasma signora quindi iscuten contro l'alieno acido quindi con le palle girate media e andiamo nella giungla quatan ti è o sti fermati schifoso essere ho appena visto tutte le mosse incredibili che io potrò fare con puttana eva con il personaggio puttana eva oh basta e sono tutte mosse con quadrato triangolo c'è proprio una varietà di colpi incredibile per questo predatore che qua nella jungla si sente proprio a suo agio anche perchè ovviamente c'è lui diventa invisibile sfanculizza tutti e tira le peggio cose mancate porca miseria toh aia e sto cazzo di alien e mi la rido anche beatamente aio bastardo no ehi ehi porca puttana oh la bella x-ray che qua fa sempre comodo che ti rifaccio i capelli se hai mal di gola così ti passa e vaffanculo pancreas che si sa tutti che non hai mai servito schifoso ti devo far pelire ecco ma è sporcato ma hanno tutti e due sangue verde mmm questa è una bella come si dice una bella curiosità perchè tutti hanno il sangue verde non è che sono imparentati e non lo sanno ah alla prossima versione di c'è posto per te ci sarà l'alien che incontra predator porca puttana eva guarda se devo perdere con sto schifoso no stronza ti volevo fare una cosa simpatica brutto mariuolo con la testa piccola tu non sei la tua regina aia mamma mia i mega colpi mamma donna oh hai rotto le palle l'ho preso alleluia campana che suona una festa e va fa culo te che hai visto com'è bello quell'artwork la ah x-ray che mi viene in salvataggio mi sa che non l'avevo mai fatta la x-ray con predator almeno io non me la ricordo dopo non si sa mai up to bastardo ba no stro ehi ehi alien hai rotto brutality ti ho fatto secco non puoi più filmare gli assegni senza le brazza ah e con questo sparimento della scena oh è partito via con la navicella ci vediamo alla prossima scrivetemi il prossimo scontro ciao 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 Grazie a tutti.